Allora, alieni della politica. Vediamo, proviamo a ricostruire un po' quello che è accaduto riguardo a questa cometa, chiamiamola così, verde, che si è imposta negli anni Ottanta in tutto il mondo, peraltro, ma che sembra più che una cometa un fiume carsico. Ogni tanto compare, poi scompare, i risultati elettorali sono ondiveghe, quindi vediamo. Allora, io pensando, quando il professor Martinoli mi ha invitato a fare questa conferenza, mi sono messo a pensare su come introdurla soprattutto, e ho pensato di introdurla con una storia vera, ovviamente, che però forse non tutti sanno perché gli studiosi di storia contemporanea, o meglio, perché ai tempi, all'inizio del 1983, i cittadini del mondo, noi, anche se eravamo un po' più giovani, non siamo venuti a sapere di quello che stava accadendo. Allora, la vicenda inizia nei primi mesi del 1983, quando l'intera rete spionistica del KGB fu allertata da Mosca, in particolare le spie che lavoravano in Occidente, tra l'altro, visto che si sta parlando di spie, la cosa è molto attuale, visto quello che sta accadendo in questi giorni, dicevo, l'intera rete spionistica del KGB, e in particolare quella che operava in Occidente, fu messa in stato di massima allerta per scoprire, con l'ordine, diciamo così, di scoprire ogni minimo, minimo segnale di ogni minimo indizio di un eventuale attacco nucleare che gli Stati Uniti stavano, in teoria, per scagliare contro l'Unione Sovietica. Ora, non vi era ovviamente nessuna intenzione così ostile o così assurda come quella di attaccare l'Unione Sovietica da parte degli Stati Uniti, e tuttavia Ronald Reagan, che aveva vinto le elezioni due anni prima, come tutti ricorderemo, nell'Ottanta, con il suo atteggiamento un po' muscoloso, aveva attizzato non poco, il termine non è mio, ma viene usato nei libri di storia della Guerra Fredda, la paranoia del Kremlino. Considerate che al Kremlino, nel 1983, sedeva Yuri Andropov, appena subentrato a Leonid Brezhnev, che era morto appunto l'anno precedente. Ora, questa operazione, che si chiama Rian, o Ryan, che dir si voglia, che ogni tanto viene anche ripresa nelle serie televisive di ultima generazione, questa operazione impegnò l'intelligence sovietica fino alla fine del 1983, quando, poi ci ritorneremo, un'esercitazione della Nato, sembra un film questa storia, però è vera, quando un'esercitazione della Nato, dal nome in codice Eibol Archer, portò realmente la paranoia dei sovietici al parossismo e il mondo rischiò la terza guerra mondiale. Ora, se voi ci pensate, è incredibile, perché solo tre anni dopo, qui siamo nell'83, solo tre anni dopo, invece, Reagan e Gorbachev, che era subentrato a Cernienko, perché Andropov e Cernienko erano stati eletti già malati, e quindi Gorbachev era stato eletto segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel marzo dell'85, beh, solo tre anni dopo, invece, Reagan e Gorbachev erano seduti, tra Reykjavik e Ginevra, eccetera, a discutere di limitare, invece, gli armamenti nucleari. Ora, dicevo, tenete presente che questa storia ha un senso, perché Reagan, come vi accennavo, governava da tre anni e aveva già mostrato i muscoli, e non poco, soprattutto nel suo primo mandato. Perché? Perché la logica di Reagan era quella di demolire, da un punto di vista anche psicologico, la logica della distensione, cioè di tutta quella fase della Guerra Fredda, che si era aperta con la morte di Kennedy nel 63, e si era chiusa, appunto, nel 1979, quando l'Unione Sovietica aveva invaso l'Afghanistan. Quindi, il bersaglio di Reagan era la psicologia della distensione, che gli americani e il gruppo di Reagan consideravano ormai obsoleta e ormai inutile, anche sotto gli aspetti più propriamente simbolici. E quindi Reagan aveva impostato il suo primo mandato, il secondo è diverso, ripeto, quando arriva Gorbachev le cose cambiano, lo ricordiamo tutti, ma nel suo primo mandato Reagan aveva pensato ad una strategia che aveva due mete. La prima era quella, ovviamente, di accrescere la forza degli Stati Uniti, riconquistando però un vantaggio strategico, oltre che militare. La seconda, accrescere le difficoltà obiettive che l'Unione Sovietica stava vivendo e che forse noi, però, all'inizio degli anni Ottanta, di cui noi non eravamo completamente, diciamo, a conoscenza. Era il periodo di Solidarnosc, no? Ricordate. Ora, è chiaro che per accrescere le difficoltà dell'Unione Sovietica e modificare l'equilibrio della distensione a favore degli Stati Uniti, il punto chiave di Reagan era ammodernare le forze armate e far ripartire la corsa agli armamenti. Perché? Perché le spese del PIL, gli Stati Uniti che sarebbero stati investiti in armamenti, gli Stati Uniti potevano gestirle, l'Unione Sovietica no. Ora, a ciò si affiancava anche un neointerventismo in politica estera dello stesso Presidente Reagan. Siamo nell'83, quindi Reagan era già intervenuto in Nicaragua, dove nel 79 i sandinisti avevano compiuto la rivoluzione e Reagan era furibondo per questa cosa, perché vedeva il Nicaragua come un possibile secondo passaggio del comunismo in America Latina dopo Cuba, ma il Congresso non gli aveva dato i soldi per finanziare la controguerriglia contro i sandinisti e quindi, qualcuno lo ricorderà, con un giro, insomma, un po' così poco pulito attraverso l'Iran, Reagan era riuscito a finanziare i Contras che appunto stavano combattendo i sandinisti e era intervenuto anche nella piccola isola di Grenada che era governata da Maurice Bishop, un leader, Grenada era piccolina, insomma, lui era un marxista e quindi Reagan aveva mandato le truppe e naturalmente stava finanziando i Mujahideen in Afghanistan che combattevano contro i sovietici. Quindi c'era anche questo aspetto reale, cioè Reagan si muoveva sul serio e questo accresceva i timori dell'Unione Sovietica. Ora, questo rinnovato antagonismo bipolare riportava però, in primo piano, anche il pericolo nucleare, ovviamente. Perché infatti insieme al clima della distensione era, per così dire, evaporato sia il clima di speranza sia la prospettiva di un graduale controllo della crescita degli armamenti nucleari e cioè i due fattori che avevano creato un clima più disteso, più tranquillo e avevano forse tolto l'incubo nucleare dalle priorità, insomma, delle preoccupazioni dei cittadini negli anni 60-70. Cioè, a fronte di un equilibrio che non era più un equilibrio ma un disequilibrio a favore degli Stati Uniti. Chi poteva garantire che le grandi leadership del mondo non sarebbero impazzite e magari qualcuno non avrebbe schiacciato il famoso pulsante rosso? Punto di domanda. Considerate anche che sempre nel 1983 Reagan venne fuori con una nuova trovata qualcuno la ricorderà le famose guerre stellari l'SD, qualcuno lo ricorderà cioè, Reagan a un certo punto siamo nel marzo dell'83 in un discorso ufficiale Reagan annuncia la volontà di costruire una rete di satelliti armati di laser appunto il nome era SD e difesa strategica questa rete di satelliti armati di laser secondo Reagan avrebbe potuto distruggere i missili che Mosca ipoteticamente avrebbe lanciato su Washington parte del mondo aveva preso questa cosa come una sparata insomma una una gradassata ma certamente anche questo aspetto dell'ASDI creava un problema per quello che riguarda la questione nucleare perché? perché andava contro il principio basilare della guerra fredda legata a queste cose e cioè la reciproca distruzione il trattato cioè del 1972 il trattato ABM che impedendo a ciascuna delle due superpotenze di costruire difese nucleari avrebbe portato avrebbe assicurato appunto la reciproca distruzione con le guerre stellari non a caso voi sapete Reagan faceva l'attore usava spesso termini legati al cinema e quelli sono proprio gli anni in cui guerre stellari dominano l'impero colpisce ancora il ritorno dello Iedi queste cose qua usato apposta ora a fronte di tutto ciò sono sicuro che qualcuno ha capito dove voglio arrivare le opinioni pubbliche dell'Occidente iniziano a muoversi e iniziano a muoversi con forza già nel 1983 nell'ottobre del 1983 furono organizzate una serie di manifestazioni in tutta l'Europa occidentale a Londra sfilarono oltre un milione di persone a Roma mezzo milione a Berlino un altro mezzo milione insomma le opinioni pubbliche iniziano a muoversi perché la logica delle opinioni pubbliche era meglio l'equilibrio della guerra fredda che rischiare meglio avere come nemico il patto di Varsavia che rischiare ovviamente una guerra nucleare considerate anche che questa ondata di pacifismo antinuclearismo era anche indotta dai mezzi di comunicazione uno studio del 1979 dell'Office of Technology Assessment aveva provato a simulare una battaglia nucleare gli effetti in particolare dell'esplosione di una bomba nucleare di media potenza e quindi un megatone sul centro di Detroit i risultati erano stati inquietanti e cioè nel raggio di un chilometro dal cratere dell'esplosione la distruzione sarebbe stata totale quindi tutto raso al suolo e immediatamente sarebbero morte le 250.000 persone che abitavano nel centro di Detroit poi bisognava allontanarsi di quasi tre chilometri perché lo scheletro di qualche struttura in cemento armato in mezzo alla catastrofe assoluta comparisse e bisognava allontanarsi di oltre venti chilometri per trovare degli edifici magari più solidi in buone condizioni contemporaneamente nella fascia tra i tre e i sei chilometri oltre ai 250.000 morti della prima fascia anche gli altri 250.000 le altre 250.000 persone che abitavano nella seconda fascia sarebbero state praticamente praticamente tutte o morte o mutilate o ustionate eccetera il calcolo quindi fatto da questo ufficio sosteneva che in caso di guerra nucleare gli Stati Uniti avrebbero perso tra il 35 e il 75% della popolazione e cioè tra 60 milioni e 170 meno l'Unione Sovietica per una questione ovvia perché la densità di popolazione dell'Unione Sovietica non era la stessa ma anche l'Unione Sovietica avrebbe perso tra il 20 e il 40% della popolazione per dare il senso io sono sicuro che qualcuno io ero piccolo ricordo queste cose per dare il senso anche di come ormai il tema all'inizio degli anni 80 fosse dominante è sufficiente fare un altro esempio nel 1983 esce un film che è un film non è proprio un film di serie B ma certamente non è un colossal a quelli a cui eravamo abituati non era guerre stellari il cui titolo sicuramente voi lo ricorderete era The Day After ora The Day After aveva questa trama che raccontava delle vicende a fronte di una guerra nucleare nelle province americane in particolare nel Kansas no? Bene The Day After fu trasmesso dalla ABC il scusate che mi sono perso la data il 20 novembre del 1983 e fu visto in televisione da oltre 100 milioni di americani oltre 100 milioni anche in Italia che arrivò ovviamente l'anno dopo fu trasmesso nel sale il 10 febbraio del 1984 e pensate che quell'anno facciamo il caso dell'Italia The Day After quindi ripeto un film di insomma non un colossal un film un po' così fu il terzo successo il terzo film più visto dagli italiani quell'anno battuto solo da Flashdance che forse qualcuno ricorderà e soprattutto da La chiave di Tinto Brass con Stefania Sandero questo lo dico a titolo di cronaca ognuno poi vabbè ora ora questa lo ricordate pensate qualcuno anche qui sono sicuro ricorderà noi eravamo a scuola e questo film nella mia scuola a Milano fu organizzata una insomma tutta la scuola al cinema a vedere il film che non è una cosa così usuale no ora perché questa 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 lunga introduzione perché e non a caso sono sicuro che è abbastanza chiaro non a caso sono quelli gli anni in cui compaiono in tutto il mondo in particolare in Europa Occidentale ma in tutto il mondo questi alieni chiamiamoli così cioè i partiti verdi che sono non direttamente e non necessariamente eredi delle organizzazioni non governative sono cose un po' diverse ma per concludere la vicenda che vi stavo vi stavo accennando l'operazione Ryan nel 1983 impegnò come vi ho detto l'intelligence sovietica per tutto l'anno fino a che a novembre fino a che a novembre accadde la tragedia cioè la paranoia dei sovietici portò le difese dell'Unione Sovietica ad abbattere un aereo coreano che per errore aveva era uscito di rotta era entrato nello spazio aereo nello spazio aereo sovietico immediatamente l'aereo era stato abbattuto non c'entrava niente un aereo di civili 269 morti le critiche all'Unione Sovietica furono furibonde da parte di tutto il resto del mondo ma questo dà il senso del livello di paranoia raggiunto dai sovietici tant'è che quando il 2 novembre l'aereo cade il primo settembre quando il 2 novembre cioè due mesi dopo esatti inizia questa esercitazione della Nato dal nome Eibol Archer una esercitazione diciamo abbastanza classica che prevedeva però la simulazione il controllo di tutti i vari passaggi delle linee di comando della Nato in caso di attacco nucleare sovietico esercitazione che prevedeva appunto il controllo di tutti i vari passaggi fino anche al mitico pulsante rosso cioè fino all'idea di attaccare di controattaccare con le armi nucleari beh i sovietici erano talmente in paranoia ripeto questo termine perché è utilizzato per esempio anche da Federico Romero nel suo libro della guerra fredda nel suo libro sulla storia della guerra fredda i sovietici si prepararono a un attacco fortunatamente e qui e quel momento fu il momento più teso di tutta la storia del secondo novecento compreso anche la gravissima crisi dei missili di Cuba dell'ottobre del 62 ora fortunatamente fortunatamente non ci scappò l'incidente perché una spia sovietica che operava a Londra tale Oleg Gordievski avvisò i servizi segreti britannici e gli occidentali si affrettarono a rassicurare i sovietici che l'attacco non era in corso però il livello di tensione era quello e pensate così chiudiamo questa storia solo tre anni dopo avvenne anche l'incidente di Chernobyl 26 aprile del 1986 esplode il rettore nucleare con la nube tossica che copre gran parte dell'Europa ora questa lunga scusa questo piccolo caso di studio io credo sia significativo perché non per caso come già vi ho accennato è proprio in questo periodo che compaiono i partiti verdi come fenomeno politico che non si racchiude appunto in Italia o nell'Europa occidentale ma è un fenomeno che investe in pratica tutto il mondo compreso sebbene in modo assai minoritario anche parte del mondo sovietico ora non per caso infatti il primo il primo partito verde diciamo ufficiale risale questo sì all'inizio degli anni 70 ma non aveva avuto un grande successo era un partito che era nato in Tasmania in Australia si chiamava United Tasmania Group il quale si trattava di una serie di cittadini il quale un gruppo locale che era nato per contrastare la trasformazione di un lago di un lago naturale australiano il lago Pedder contro l'idea che invece vi era di trasformare questo lago in un bacino per la produzione dell'energia idroelettrica questo partito nel 72 era riuscito a prendere il 3,9% per poi invece seguire una strada diversa nello stesso anno anche in Nuova Zelanda era nato un partito verde il Velius Party il quale aveva ottenuto negli anni 70 anche un discreto successo portando qualcuno anche in Parlamento aveva preso il massimo il 5,3% ma in realtà a parte questi due casi due casi così estemporanei e con l'inizio degli anni 80 che nascono in particolare in Occidente appunto i partiti verdi nell'America del Nord il primo è quello canadese il partito verde canadese anche negli Stati Uniti nascono i Green Committee of Correspondence in Gran Bretagna dal gruppo originale che si chiamava People poi con gli anni negli anni 80 questo gruppo People prende il nome di partito verde e potremmo andare avanti a lungo anche in Belgio in Irlanda il problema è che addirittura in Belgio nascono due partiti uno nella zona Vallona e una zona Fiamminga ora questi partiti incidono sull'opinione pubblica ma da un punto di vista elettorale fanno molta fatica e questo è già un punto sul quale dovremo magari spendere qualche minuto perché la domanda che si pone il politologo lo storico è cosa c'è alla base della nascita di un partito politico in quella fase della storia del novecento ora i partiti verdi sono alieni anche di questo punto per usare questo termine che è divertente anche perché non rispecchiano diciamo la nascita dei partiti storici nel mondo occidentale e nelle democrazie classiche cioè gli studi sulla storia dei partiti ci dicono che i partiti nascono a fronte di fratture sociali che avvengono nel tempo esempio sono state studiate adesso io non vi faccio tutta la bibliografia poi se qualcuno è interessato mi contatta gli mando i riferimenti se no non finiamo più esempio la frattura tra centro e periferia quando nascono gli stati nazionali le capitali tendono a prendere sempre più potere ad assumersi quindi responsabilità che prima stavano nelle periferie e da questo genere di frattura nascono generalmente i partiti regionalisti per fare un esempio oppure la frattura tra stato e chiesa anche in Italia è un caso ma non solo l'Italia la Francia piuttosto che e cioè la nascita dello stato nazionale porta lo stato a a prendersi prerogative che prima erano della chiesa pensate solo all'educazione alla scuola queste cose e quindi nascono partiti di stampo religioso per difendere le prerogative della chiesa pensate noi ne abbiamo siamo in Italia quindi è inutile fare esempi molto noti oppure ancora la frattura tra città e campagna che non è tra centro e periferia è diversa e cioè è la frattura che avviene quando nelle società agrarie e contadine lo stato impone che so barriere doganali piuttosto che impone il livello dei prezzi e allora nascono in Italia no ma per esempio in Polonia o in altri paesi i cosiddetti partiti agrari e i partiti addirittura contadini la Polonia è un caso significativo oppure ancora la classica frattura novecentesca tra datemi buoni termini che sembrano un po' obsoleti tra imprenditori e classe operaia dalla frattura tra imprenditori e classe operaia nascono partiti comunisti partiti socialisti da una parte magari partiti liberali insomma dall'altra queste sono da un punto di vista storico scusate scusate un secondo come siamo con i tempi perché noi storici siamo pericolosi iniziamo a parlare è finita vi inchiodo qua tutto il weekend quindi ora queste sono le fratture classiche cleavage che hanno dato origine ai partiti politici e anche a quelle che vengono definite le famiglie spirituali di partito e cioè i segmenti della cittadinanza che si riconoscono nei partiti liberali nei partiti conservatori nei partiti comunisti nei partiti della destra radicale va benissimo c'è sempre una frattura sociale all'interno che ha fatto nascere i partiti classici che ne conosciamo con le varie declinazioni o denominazioni che vogliamo i repubblicani e i democratici negli Stati Uniti i toris e i laburisti in Gran Bretagna comunque quello è da queste fratture nascono i partiti dell'età contemporanea e però i verdi e come li mettiamo i verdi i verdi non seguono questa logica per spiegare la nascita di questi partiti bisogna affidarsi ad altro ecco qui un po' le particolarità credo che siate d'accordo poi dopo comunque ne discutiamo e cioè io credo che poiché i partiti ecologisti chiamiamoli così seguono una strada diversa bisogna uscire dall'idea del mondo bloccato ideologicamente socialmente come noi l'abbiamo conosciuto nel novecento cioè bisogna provare a cercare qualcosa di nuovo ora com'è possibile quindi che questi partiti riescano a ritagliarsi uno spazio magari elettoralmente non così significativo ma uno spazio importante che porta per fare un esempio Josca Fischer in Germania a non solo superare lo sbarramento del 5% a portare il partito a cifre ben superiore e diventare anche ministro degli esteri della Germania e Josca Fischer era il leader dei grünen dei verdi tedeschi allora bisogna pensare come ne usciamo da questa storia perché se no non riusciamo a capire le motivazioni alla base ecco per uscirne bisogna a mio parere ragionare su altro e cioè richiamare gli studi sul comportamento elettorale in particolare nel mondo anglosassone che sono stati compiuti per una serie storica molto lunga in particolare dalle scuole della Columbia University quella guidata da Paul Lazzasfeld e della Università del Michigan noi avevamo il fascismo eravamo lontani mille miglia a pensare al comportamento elettorale perché sotto il fascismo c'era poco da pensare al comportamento elettorale ovviamente però queste due scuole già negli anni 40 avevano iniziato a cercare di trovare nuove strade per capire il comportamento elettorale delle persone queste due scuole erano partite da principi differenti la prima quella della Columbia University si basava sostanzialmente sulla categoria socio-economica di appartenenza del cittadino e cioè a fronte dei vari studi io ve la faccio veramente brevissima a fronte dei vari studi secondo questa scuola appunto della Columbia University di New York il voto era sì un comportamento individuale è chiaro che uno va individualmente e mette la X dove vuole in democrazia però questo comportamento era profondamente influenzato dalle norme e dai valori dominanti del gruppo sociale di appartenenza cosa significa? per dirla con una battuta uno pensa politicamente come è socialmente nel novecento era perfetta questa cosa io sono figlio di un operaio sono un imprenditore uno pensa politicamente come è socialmente quindi secondo la scuola appunto della Columbia University l'identificazione col partito era molto forte perché derivava anche dalla appunto categoria sociale di appartenenza e quindi per esempio pensate agli Stati Uniti il solo quartiere in cui si abitava già incideva sul voto sapete che negli Stati Uniti la gente si muove però nel quartiere di appartenenza lo stato sociale la famiglia in particolare perché la scuola della Columbia secondo gli studi della scuola della Columbia quasi l'80% dei figli votavano come i genitori quindi uno pensa politicamente come è socialmente e lì è e lì si rimane la scuola del Michigan partiva invece dalla psicologia individuale delle persone quindi due approcci profondamente diversi per cercare di capire il comportamento elettorale e tuttavia anche pur partendo appunto dalla psicologia individuale anche la scuola dell'università del Michigan era giunta a conclusioni molto simili cioè in pratica vi era una forte identificazione con il partito che derivava fossero anche appunto questioni individuali dall'appartenenza cioè vi era un fortissimo elettorato di appartenenza quello che noi in Italia dopo il periodo del fascismo potremmo definire lo zoccolo duro ora questo sistema cioè io penso politicamente come sono socialmente funzionò nelle democrazie negli Stati Uniti gli anni 40 gli anni 50 gli anni 60 anche nelle neodemocrazie dell'Europa occidentale una volta sconfitto il nazismo e il fascismo però a un certo punto queste scuole non solo queste scuole iniziano a accorgersi che il voto di appartenenza iniziava a sbriciolarsi iniziava a sbriciolarsi e quindi vi erano per usare un termine classico una percentuale abbastanza importante di voti che erano in libera uscita e quindi che qualcuno poteva intercettare in teoria ora quando accade ciò questa cosa inizia con gli anni 70 e diventa molto forte negli anni 80 vedete che adesso ci arriviamo cioè che cosa accade accade che mentre si sfalda il voto di appartenenza inizia a crescere quello che viene definito il voto di opinione e cioè poiché le ideologie iniziano a cedere e no anni 70 anni 80 faccio un solo esempio pensate a quanto facciamo il caso italiano anche se non c'entra molto ma per dare il senso pensate a quanto Enrico Berlinguer abbia lavorato per recidere in parti le radici del partito comunista italiano dal marxismo-leninismo per fare un esempio quindi le ideologie iniziano a fare sempre meno presa e a adesso esagero un po' ma a essere considerate un po' obsolete da un lato e dall'altro appunto cresce il voto di opinione cioè un voto che non deriva più dall'appartenenza sociale ma deriva dall'andare a cercare tematica per tematica e andare a vedere quale partito affronta in che modo quella tematica non parliamo più di visione del mondo parliamo di tematiche oserei dire singole quando accade ciò non per caso accade tra gli anni 70 e gli anni 80 cioè quando raggiunge l'età adulta la generazione che era nata dopo la seconda guerra mondiale in tutto l'occidente quando cioè quella parte del mondo l'occidente aveva raggiunto un livello di benessere mai provato prima pensate all'Italia l'Italia degli anni 50 è un paese povero l'Italia degli anni 70 è un paese in cui mai nessuna generazione di italiani aveva potuto godere di un benessere paragonabile e mica solo in Italia chiaramente cioè dicevo i legami coi partiti si indeboliscono nasce questo elettorato di opinione e questo elettorato di opinione cresce in modo importante proprio in quel periodo per farvi solo un esempio già nel 1978 in un paese fortemente ideologizzato come il nostro siamo nel 78 quindi la percentuale di cittadini che a domanda rispondevano identificandosi in un partito qualsiasi fosse era del 46% quindi meno di 1 su 2 nel 1992 quindi pensate era del 30% 31% cioè significa che lo zoccolo duro l'elettorato di appartenenza è ridotto a 3 cittadini su 10 ci sono praterie elettorali no? ci intendiamo avete capito cosa intendo dire ora non solo ma con gli anni 70-80 con questa nuova generazione quindi che raggiunge l'età adulta in quel periodo si osserva una progressiva sfiducia nel funzionamento delle istituzioni e una netta netta diminuzione del voto di classe perché? perché le classi sociali effettivamente non rispecchiavano più completamente lo sviluppo della società ci sono gli studi di Silos Labini adesso ve la faccio breve ma nel momento in cui non ci sono più le classi sociali ma come ha scritto per esempio tra i tantissimi anche Ralf Darendorf la società diventa un'unica classe enorme chiamiamola borghese anche se all'estremo più alto vi sono elementi di ricchezza indicibili e all'estremo più basso invece situazioni di povertà importanti ma quello è non ci sono più le classi sociali e se i cittadini sono come ha scritto Ralf Darendorf politicamente dei senza tetto perché non ci sono più le classi sociali quindi non c'è più il voto di appartenenza non si pensa più socialmente cioè politicamente come si è socialmente allora le cose possono cambiare ed è in questo quadro che si affermano appunto i cosiddetti partiti verdi ora questo però non basta ancora capire a capire la l'esplosione di questo genere di tematica perché perché è vero che va bene adesso i voti sono in libertà è vero che la questione nucleare spinge fortissimo verso una neosensibilità una nuova sensibilità nei confronti dell'ambiente però è anche vero che per fare l'esempio dell'Italia al referendum lo ricorderete tutti antinucleare del novembre del 1987 votarono 30 milioni di persone su 45 il quorum fu altro che se superato e in pratica la tematica nucleare antinucleare stravinse con l'85 passa per cento e appunto 30 milioni di cittadini 80% di voti antinucleari ma i partiti verdi quei voti non li prendono quindi ne prendono un po' ma pochi pochissimi oserei dire se ragioniamo in questa quindi non basta neanche quello a capire la nascita dei partiti verdi e quindi bisogna tornare invece alle fratture chiamiamole socio-economiche ora questa è una tesi che ormai è diciamo gli studiosi l'hanno presa per buona insomma c'è una certa c'è una certa unità di interpretazioni e cioè per cercare di capire questo genere di partito bisogna pensare a quello che vi ho detto cioè alla tematica al voto di opinione eccetera ma anche inesorabilmente al fatto che una qualche nuova frattura sociale ci deve essere stata se no prendi se ti va bene a un'elezione prendi qualche voto poi scompari mentre comunque il peso della tematica ambientale dei verdi noi l'abbiamo visto fino agli anni 90 inoltrati anzi anche a cavallo del 2000 ancora e allora qual è questa nuova frattura secondo diversi studiosi la nuova frattura appunto erede della frattura tra stato e chiesa tra centro e periferia tra città e campagna tra imprenditori e classe operaia è la frattura che si verifica una frattura generazionale in particolare che si verifica proprio in quegli anni tra i materialisti e tra i valori chiedo scusa tra i valori materialistici e i valori post materialistici cioè come vi accennate se ho detto così sembra cosa sta dicendo costui però adesso arrivo cioè stiamo parlando della società del benessere come già vi ho accennato stiamo parlando di una generazione che non ha conosciuto la povertà o comunque l'ha superata e sta vivendo in una situazione di benessere mai visto a questo punto proprio negli anni pensate agli anni 60 un po' così ma negli anni 70 in particolare negli anni 80 per una porzione di cittadini del mondo occidentale i valori più importanti non sono più anche perché sono già stati raggiunti e soddisfatti i valori prettamente materiali i soldi la sopravvivenza le cure cioè valori che ti inchiodavano perché quelli erano tu prima dovevi soddisfare questi bisogni poi dopo potevi fare quello che volevi soddisfatti questi bisogni dalla generazione diciamo precedente la nuova generazione parte della nuova generazione è sempre naturalmente vede invece come primari considera come primari i valori post materialistici e cioè la soddisfazione personale la realizzazione della tua vita privata valori che vanno oltre il materiale e allora eccolo qua l'ambiente eccolo qua l'ambiente è uno di questo genere di valori il bene del mondo uno dice appena pensa a mangiare porta a casa la minestra e poi dopo discutiamo in quel periodo in quella fase storica c'è una parte della cittadinanza che privilegia e considera i primari i valori post materialistici quindi la nuova frattura sociale che è anche in buona parte a mio parere una frattura generazionale porta questo genere di partiti appunto alla ribalta però il problema è non so se voi siete d'accordo poi ne discutiamo vi sto esponendo molto brevemente le tesi che sono state esposte negli ultimi vent'anni su queste su questi argomenti e quindi dicevo la libertà la libertà di opinione la realizzazione della vita personale insomma valori non non contabilizzabili da questo punto di vista e in questo quadro si inserisce l'ecologia in senso lato l'ambiente in senso lato ora c'è un grande elemento di novità però in questo genere di partiti perché per la prima volta questo genere di partiti verdi che nascono sulla scia appunto allora di queste basi non si riconoscono almeno a livello teorico lungo l'asse destra-sinistra premetto già che io da studiose queste cose questa è la mia opinione io credo che invece la politica forse ai tempi e tuttora è gestibile solo sulla diade dell'asse destra-sinistra però ai tempi questo genere di partiti non si riconosceva almeno formalmente nella diade destra-sinistra del resto del resto in Germania alla fine degli anni 80 il 40 diciamo a votare come dire post-materialistico era il a votare chiedo scusa a votare i partiti verdi diciamo in questo questo senso qua cioè privilegiare i partiti post-materialisti i valori post-materialistici erano per oltre il 49% persone diciamo di carattere conservatore cioè il voto ai partiti verdi arrivava in buona parte da gente che votava a destra in senso per essere più chiaro col tempo invece cambiato però insomma questi partiti non si riconoscevano lungo l'asse destra-sinistra erano una novità giovane per una certa un certo anticonformismo nel gestire la politica teorizzavano almeno in parte elementi di democrazia diretta all'interno della gestione del partito un partito sufficientemente snello in realtà per quanto non si non si riconoscessero almeno alcuni in parte lungo lo schema destra-sinistra noi sappiamo però che molti di questi partiti politici che non dipendono direttamente non sono espressioni dei movimenti ambientalisti anzi anzi sovente i movimenti ambientalisti hanno avuto problemi con i partiti verdi in giro per il mondo occidentale dicevo molti di questi partiti però vengono fondati da esponenti che in gioventù erano appartenuti alla chiamiamola sinistra libertaria che avevano fatto il 68 con Bendit Josca Fischer appunto pensate in Italia i verdi i verdi i verdi i verdi arcobaleno erano stati fondati sostanzialmente da una parte di scissionisti di democrazia proletaria da una parte di radicali e poi da qualche altro libertario quindi lo schema in realtà pur essendo a livello teorico oltre alla destra a sinistra piazza lungo la diade destra a sinistra questi partiti a sinistra ed il resto praticamente ovunque questi partiti si alleano poi con altri partiti di sinistra forse da questo punto di vista limitando il bacino potenziale di utenza degli elettori però insomma questo ce lo racconta la storia ora il punto è e infatti adesso vado a chiudere così almeno la questione è la storiografia ha affrontato le vicende dei partiti dei partiti dei partiti verdi per fare solo un esempio John McNeill sostiene che le visioni politiche ambientaliste siano importantissime ma che negli ultimi trent'anni del novecento è stata la visione politica tradizionale a esercitare l'influenza maggiore sulla storia dell'ambiente adesso spendiamo due parole lo stesso Paul Ginsburg notissimo storico inglese che studia l'Italia peraltro proprio affrontando il caso italiano scrive già riferendosi alle elezioni del 94 che i verdi dimostravano per l'ennesima volta la loro incapacità di divenire una forza significativa nella politica italiana cioè quasi tutti gli studi sottolineano le grandi contraddizioni che albergano all'interno di questi partiti e nonostante questo Francine Simon Ekovic che è l'autrice della voce Verdi per il dizionario della sinistra europea che è un insomma un'opera meritoria scrive che e con questo vi lascio poi così magari discutiamo scrive che l'unica ideologia politica nuova nel panorama occidentale dalla fine della seconda guerra mondiale è l'ecologia chi l'ha vista? grazie